Non è ancora stata accertata l'identità del cadavere ritrovato nella mattinata di ieri in via Capitolo San Matteo, un'arteria chiusa alla circolazione stradale nei pressi dell'ex USCA, dove il passaggio di due ciclisti casualmente ha consentito prima di mezzogiorno di rinvenire il corpo priva di vita di un extra comunitario. Da comparazione di una serie di elementi, la squadra mobile diretta dal dottore Giovanni Di Palma, con il lavoro della polizia scientifica, avrebbe identificato la vittima un bengalese di 33 anni senza precedenti che di recente avrebbe richiesto un permesso di soggiorno presso la questura di Napoli. Ma manca ancora l'ufficialità. Ad aiutare il lavoro di ricerca ed indagine, una serie di rilievi effettuati dalle telecamere di videoserveglianza alle quali la polizia guarda per capire se sarà possibile attraverso i filmati risalire a movimenti strani a persone per capire cosa sia accaduto. Molte telecamere risultano però dismesse o fuori uso. Questa mattina gli agenti della questura di Salerno hanno effettuato un nuovo sopralluogo nell'area dove è stato ritrovato il corpo. In ogni caso, vista l'assenza di testimoni, al netto di un vigilantes che è già stato ascoltato nella giornata di ieri, si cercano ulteriori elementi utili all'inchiesta. Quello che appare già certo è che l'uomo sia stato ucciso sul posto. Una vistosa ferita alla gola è stata la causa del decesso. Un taglio netto e preciso che ne ha causato la morte. Una sorta di agguato più che una colluttazione. Ma sarà anche l'esame autoptico che verrà effettuato nelle prossime ore, a dire con precisione di più. La strada dove è avvenuto l'omicidio non è frequentata se non da ciclisti che la usano come bypass dalla litorania per spostarsi verso la zona industriale di Salerno. La morte è avvenuta nella nottata precedente al rinvenimento.